Tanto noi regolarmente ospitiamo direttori di giornali, media, sono i nostri ospiti conviviali. No, ci siamo ritrovati nel suo titolo, cioè ce la faremo. È un'affermazione o una domanda? È un'affermazione, perché alla fine vediamo che i nostri rappresentiamo quel mondo di imprese che capabilmente continuano a investire. Noi rappresentiamo catene di retailers, quindi punti vendita, e vediamo come i nostri associati quest'anno abbiano dichiarato che stanno faticosamente aprendo altri 1.200 punti vendita. È un grande paese, con grandi difficoltà evidentemente, ci siamo confrontati, condividiamo che ce la faremo nonostante tutto, a volte nonostante governi che ci portano a zigzag in Italia, nonostante il grande debito, però abbiamo la fortissima capacità nel nostro capitale umano, di imprenditori, di gente molto abituata a muoversi alle difficoltà, e vediamo che anche recentissimamente, nonostante le critiche venivano dall'estero sulla nostra capacità di affrontare i problemi delle nuove elezioni della comunità europea, siamo usciti bene. Riteniamo che l'Italia ha una grande capacità di resilienza, cioè capacità di sopravvivere anche nei momenti di difficoltà, lo ha sempre dimostrato da decenni, da secoli, e quindi questo ci accomuna. E quindi abbiamo condiviso con Ferruccio De Bortoli il suo titolo, il contenuto, che nonostante tutti i problemi che l'Italia ha, abbiamo le capacità, siamo un grande paese, abbiamo le capacità di sopravvivere, sopravvivere bene, grazie ai nostri uomini, al nostro capitale umano. Parlando tanto di problematiche legate agli aspetti culturali, ma un altro tema che è venuto fuori nella presentazione di oggi sono i temi legati alla burocrazia. Noi purtroppo abbiamo uno dei tanti problemi che chi fa impresa deve affrontare, è una burocrazia non efficiente, certamente poco efficiente, poco disponibile ad aiutare chi fa impresa, che rende quindi difficile nei tempi e nei costi prevedere cosa uno può fare in Italia. Tant'è che noi siamo in Europa uno dei paesi che ha meno investimenti stranieri rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto alla Germania. E quindi uno dei motivi principali che vengono messi in evidenza da chi vuole investire è la lentezza del parato burocratico, del sistema legislativo, del sistema giudiziario, recuperare soldi da uno che non ti deve i soldi è difficile, le autorizzazioni sono contorte, sono problematiche, contraddittorie spesso, quindi questo è un grave handicap per incoraggiare gli investimenti. Nonostante tutto poi gli italiani ce la fanno, però questo ha causato in Italia quello che è il nanismo, cioè abbiamo poche multinazionali, perché è talmente faticoso svilupparsi in Italia che rende poi le aziende, perché poi cosa succede? Il sommerso, il furbo, colui che è il corrotto, il corruttore, questo è uno dei problemi. Ma questo è endemico. Occorre una grande capacità di leader politici che abbiano veramente capacità di leadership, abbiano una visione ampia e futura sul paese per fare la riforma della burocrazia, del sistema del paese nell'ambito di tutta la burocrazia trasversale, che ancora non abbiamo visto, molte promesse non abbiamo ancora visto.